eccoci buonasera a tutti carissimi amici stasera saremo anche particolarmente sintetici le app del coronavirus ecco ci è scatenato il nostro mondo il mondo mondo del web si è scatenato su questa ipotesi dato che parliamo di questioni tecniche sociali e quindi non strettamente giuridici permettetemi di togliermi la toga perché sapete che la toga la indossiamo quando parliamo esclusivamente di questioni giuridiche e giudiziarie allora le app ovviamente ci stiamo tutti quanti scatenando contro questa nuova metodica di controllo dei cittadini vi questa sera vi voglio far vedere cosa c'è anche dietro piccole cose che scopriamo tra di noi non c'è bisogno di fare l'investigatorio di essere una grande holding per scoprire alcune cose che ci devono fare riflettere che ci devono preoccupare che ci devono fare stare attenti perché è vero in questo momento non possiamo fare nulla ma se siamo attenti se siamo uniti nel momento in cui ci sarà l'opportunità potremo difenderci allora guardate guardate cosa si scopre e se stando un po' attenti con un po' di attenzione allora vi faccio vedere qualche giorno fa il giorno 14 aprile quindi pochissimi giorni fa stranamente è successo un fatto un pochino strano nella politica nazionale ecco ricordateci noi non facciamo politica ma denunciamo quello che viene nella politica perché la politica è la nostra vita quotidiana se conte limita la nostra libertà e lo fa con decreti incostituzionali è la nostra vita quotidiana quella è politica questa è la nostra vita quotidiana guardate che cosa è successo il giorno 14 aprile badate bene alla data e ve lo faccio vedere senza commenti come al solito ecco qui berlusconi farò favorevole al messe errore clamoroso non usarlo e leggete questo corsivo quella di silvio berlusconi è una voce che stona nel coro unanime delle destre contro il messe questa dichiarazione di qualche giorno fa si è fatto scarpone invece ma come berlusconi così che si risocia senza neanche motivo guardate cosa è successo dopo due giorni due giorni e guardate adesso ve lo faccio vedere dopo due giorni ecco qui guardate ecco il governo sceglie immuni la app per il tracciamento dopo il coronavirus la no alla geolocalizzazione ecco il governo sceglie immuni leggiamo qui sotto progettato dalla bending spoons il commissario arcuri firma l'ordinanza e quindi viene assegnata a questa società senza gara e dicono ma tanto è gratuita senza gara una delle più importanti operazioni italiane per il controllo dei cittadini voi mi direte ma cosa c'entra quella notizia di due giorni prima secondo cui berlusconi aveva detto sia al messe quindi a questi ai poteri europei merkel che stanno tentando di imbrigliare l'italia cosa c'entra ecco qui adesso vi facciamo vedere cosa c'entra guardate cosa c'entra ogni cosa che ci che ci viene propinata c'è qualche cosa dietro sembra di stare in un film di hitchcock guardate questa questa app come abbiamo detto è di proprietà ecco qui è di proprietà di questa società la vedete benissimo che sono i proprietari di questa società ecco qui la famiglia berlusconi ecco guardate non stiamo non dicendo cose eccole qua guardate app e muni la bending spoons famiglia pao famiglia berlusconi la famiglia pao la famiglia pao chi è pao adesso ve lo leggo è inutile vi faccio vedere vi leggo la famiglia pao è una delle famiglie d'affari più famose della cina no cina 5g ecco guardate vi stiamo dando dei dati non stiamo facendo commenti guardate è all'interno di questa società c'è il nuovo capital guidata da tommaso paoli ex banca intesa all'interno c'è anche all'interno c'è anche vi lo faccio vedere perché altrimenti sembrano notizie inventate eccola qui guardate luca foresti che guida la rete dei poliambulatori centro medico sant'agostino vicino a matteo renzi queste sono notizie di internet non le inventiamo sono notizie stampa non sono ecco allora ecco ecco che cosa significa che cosa significa ogni passo che viene emanato da questo governo nasconde qualche cosa dietro questa non è una critica politica vi sto dando la certificazione di quello che avviene allora questa app che dovrebbe aiutare i cittadini perché noi dobbiamo essere aiutati perché attraverso questa app sapremo se vi accanto a noi c'è qualcuno che è stato contagiato dal coronavirus e quindi servirà a tutti quanti per sapere come comportarci come muoverci ma qui siamo a livelli di folli di follia veramente fantastica dopo di che dico no però non c'è una geolocalizzazione anzi vi diremo che è anonima ancora ci prendono in giro con l'anonima ma io ancora ci vedo dopo di che succede ormai abbiamo imparato il giochetto che stranamente un hacker sfonda tutte le difese dell'inps e un giorno tutti i dati riservatissimi di ognuno di noi sono in rete ecco allora ancora ci prendete in giro con i dati riservati quindi non c'è nulla di riservato noi siamo saremo contrari come cittadini italiani sottoposti all'unica legge che riconosciamo che la costituzione italiana e le leggi non anticostituzionali legati alla costituzione tutto il resto lo opporremo con tutte le nostre forze in tutti i tribunali d'italia e anche alla corte di giustizia e dei diritti dell'uomo non è possibile essere seguiti quotidianamente con la scusa del coronavirus da una app non ci stiamo voglio però dire anche una cosa quindi vedremo come si sviluppa perché ricordatevi che ci sono dei dei giochi occulti psicologici per cui ci dicono no è libera dopodiché un giorno ci diranno sì è libera però se tu vuoi andare allo stadio devi essere per forza devi scaricare questa app se tu vuoi andare al teatro e questi sono i giochi del potere per obbligarci tutti a essere seguiti avere questa spia sopra il nostro capo però vi voglio dire ai tantissimi siete tutti contrari a questa app e vi voglio dire però amici miei cioè non è non è che non potete pensare oggi di essere liberi perché se siamo tutti quanti contro questa forma di ricatto di costrizione però poi tutti quanti tutti quanti abbiamo questa tesserina adesso diciamoci un po anche di di come veniamo imbrogliati ecco la tesserina con cui veniamo imbrogliati tutti i giorni eccola qui questa è la mia come vedete tessera sanitaria con tutti i nostri dati codice fiscale ecco qui il codice a barre cosa succede che cosa è stato inventato è stato inventato un'altra piccola piccolo imbroglio piccolo grande imbroglio andate in farmacia e vi dico volete scaricare mi dalla mi passa la tessera se voi chiedete al vostro commercialista quanto avete scaricato in un anno scaricato è ridicolo 8 euro 6 euro 5 euro però questa tessera che non serve a scaricare nulla serve a controllarvi ogni giorno quando andate in farmacia perché i dati di questa tessera sono dati riservati ma riservati a chi a chi poi può entrare può sapere voi cosa acquistate quando acquistate tutto quello che fate dove siete localizzati in quel momento nessuno di voi ci ha mai fatto caso e questo è localizzazione del cittadino questo è uno degli altri imbrogli a cui dobbiamo sottostare allora quando il farmacista ci dirà vuole passare la sua tessera gli si deve dire no non passo la tessera non mi interessa avere uno sconto alla fine dell'anno di 4 euro da parte delle istituzioni per quanto riguarda le tasse peggio ancora ecco il secondo imbroglio a cui sottostiamo perché andiamo di corsa perché pensiamo di avere dei vantaggi eccolo qui secondo imbroglio eccolo qui tessera del supermercato adesso parliamoci chiaro ma quanti di noi abbiamo tre quattro cinque tessere adesso vi dico anche l'imbroglio e il super imbroglio questa tessera del supermercato fa un monitoraggio di qualsiasi cosa facciate quando andate a fare la spesa cioè viene monitorato il momento viene monitorato la vostra data di nascita viene monitorato ma non non sto dicendo una cosa volgare una cosa reale la l'ovulazione della della donna perché fanno i calcoli anche sul momento ormonale di quando compra alcune cose ma rendetevi conto queste tessere sono la nostra geologalizzazione sono la nostra spia e ne abbiamo tre quattro due cinque e quando la passiamo questa tessera c'è scritto tutto quello che abbiamo acquistato in quel momento della giornata in quella giornata in quell'anno ecco come siamo spiati ecco come siamo spiati ed è un business colossale questo elenco di ogni supermercato un elenco che viene venduto a peso d'oro siamo utilizzati commercialmente ma vi rendete conto non sono la tesserina non è la tesserina per avere 10 euro di sconto i 10 euro che abbiamo di sconto a loro valgono 100 euro noi valiamo 100 volte di più di quello che risparmiamo e rendetevi conto che siamo ancora più imbrogliati perché sento molti di voi soprattutto molte signori ah io ho risolto il problema delle mie quattro tessere che non ricordo mai ho scaricato un'app dove metto tutte le tessere del mio dei tutti supermercati e basta cliccare e ho tutte le tessere peggio perché sia saremo sotto il controllo non solo di ogni singolo supermercato e ovviamente dei loro gestori del di questi dati ma anche di un nuovo gestore che accorpa 3 4 5 supermercati ecco rendetevi conto che il mondo attuale in cui veniamo braccati è pazzesco siamo completamente circondati allora dei piccoli accorgimenti se possiamo evitiamo queste tessere se possiamo evitiamo la tessera sanitaria farmacia se possiamo se non possiamo allarghiamo le mani noi saremo accanto a tutti i cittadini nel momento in cui inizieranno questa una serie di giochi di potere per obbligarci a scaricare queste app che dovrebbero solo darci una mano in questo momento del coronavirus perché anche perché queste app queste questo controllo questo braccialetto elettronico che ci vogliono mettere alla caviglia adesso stanno affermando che serve in questo momento del coronavirus poi diventeranno questioni di ogni giorno e noi ci dobbiamo ribellare sempre con i metodi democratici sempre attraverso la giustizia sempre attraverso una manifestazione anche popolare ma sempre pacifica perché la democrazia è il bene supremo che abbiamo conquistato e la democrazia dobbiamo difenderla domani parleremo di un problema ancora più grave ancora più grave quella dei vaccini come sapete stanno iniziando le varie ordinanze regionali per con l'obbligo di alcuni ulteriori vaccini parleremo anche di questo gravissimo problema un abbraccio caro ci vediamo domani sera sempre alle ore 19 condividete al massimo questo video se vi è fatto riuscire un saluto caro ciao